Sentite che cosa diceva Renzi due anni fa. Io vorrei che da domani mattina il governo Monti eliminasse il finanziamento pubblico ai partiti e il finanziamento pubblico all'editoria. Sarebbe un segno di trasparenza e 200 milioni risparmiati per il sociale. Per il sociale, presidente Renzi, già c'è la legge pronta, scritta e depositata dal Movimento 5 Stelle, prima firma Giuseppe Brescia, il 23 gennaio 2014. Una legge per abolire il finanziamento pubblico all'editoria. Sapete quanto ci costa finanziare questi giornali che il più delle volte sono giornali di partito, giornali di regime? 190 milioni di Euro all'anno, una somma che è stata stanziata già per il 2014, per il 2015 e per il 2016. Dicono che questi soldi servono per finanziare la cultura, in realtà servono per finanziare giornali che spesso e volentieri mentono. Noi reputiamo invece che la cultura si possa appunto finanziare finanziando il sociale. Nello specifico con 190 milioni di Euro si riparano all'anno 350 scuole, le scuole cadono a pezzi. Oppure si danno delle borse di studio a 30 mila giovani italiani con 190 milioni di Euro. Se ci fate caso è ripartita la caccia all'uomo contro il grillino, contro il Movimento 5 Stelle, ci attaccano in ogni modo. Sbagliamo un congiuntivo e andiamo su Al Jazeera. Per carità, noi faremo i nostri errori, ma vi rendete conto di quella che è diventata l'informazione? Che c'è Salvatore Scicu di Forza Italia, il parlamentare europeo, ex collega nostro qui alla Camera, indagato per riciclaggio di denaro sporco dei casalesi in Sardegna e nessuno ne parla, mentre invece qualsiasi cosa facciamo noi finiamo su tutti i giornali. Perché succede questo? Perché abbiamo tutti i media contro? Esclusivamente per questa legge, per il fatto che noi abbiamo nel programma l'abolizione totale del finanziamento pubblico ai giornali. Non vogliamo più dare soldi a giornali privati, anche perché questi soldi i giornali non li utilizzano per assumere dei giovani preparati giornalisti e non pagarli come invece fanno oggi 5 Euro a pezzo, no, li utilizzano per esempio per pagare maxi stipendi da 20.000, 30.000, persino 40.000 Euro ai direttori dei giornali, i quali poi che cosa fanno? Dettano la linea e la linea è distruggere il Movimento 5 Stelle perché fondamentalmente è l'unica forza politica che ci vuole togliere i soldi. Noi vogliamo togliere i soldi ai giornali e noi sul serio, noi sì lo vogliamo, finanziare il sociale. Pensate che con l'ultimo video di Informiamoli Tutti siamo arrivati a oltre 3 milioni di persone e oltre 400.000 persone hanno fisicamente cliccato e visto l'ultimo video di Informiamoli Tutti. Oltre 400.000 persone. Considerate che la tiratura cartacea quotidiana del grandissimo quotidiano Repubblica è 320.000, cioè con Informiamoli Tutti. Noi superiamo, possiamo superare, abbiamo già fatto questi giornali così famosi, per cui insistiamo su questa strada. Cerchiamo di far capire perché ci fanno tutti la guerra questi media, essenzialmente per queste leggi scritte e già depositate. Se Renzi volesse, con la sua maggioranza le potrebbe, assieme ai nostri voti, approvare domani mattina. Questa è la strada, continuiamo a condividere questi video di Informiamoli Tutti e non molliamo perché ce la faremo. Sarebbe un segno di trasparenza e 200 milioni risparmiati per il sociale. Per il sociale. Per il sociale. Per il sociale. Grazie per la visione